Il Galletto On The Road arriva a Chioggia per presentare il nuovo Small & Takeaway Formula che aprirà il prossimo 8 luglio presso il parco commerciale Cloddy. Dal 28 giugno al 1 luglio venite a conoscere il mondo Befed grazie al nostro Befed Food Truck. Vi aspettiamo a cena da giovedì 28 presso il parco Cloddy. Era inevitabile che accadesse e con delibera di giunta il Comune ha autorizzato l'avvocatura civica rappresentata dal dottor Carmelo Papa a muovere ricorso in sede di Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar numero 604 pubblicata lo scorso 5 giugno che accoglieva le istanze di costa bioenergie riguardo la continuazione dei lavori al deposito di GPL in Val d'Ario. Il passaggio alla giustizia amministrativa di secondo livello è stato formalmente suggerito dal dirigente del settore urbanistica del Comune, architetto Gianni Favaretto, e si avvale del patrocinio regale congiunto dello studio romano De Sanctis Mangelli che disciplina le cause promosse avanti le autorità giudiziarie che hanno sede nella capitale, come appunto il Consiglio di Stato. Il preventivo di spesa per il Comune, fissato dall'avvocato De Sanctis, ammonta 2.600 euro più le spese e l'IVA. Intanto procedono in Val d'Ario i lavori di costruzione di una palazzina che secondo capitolato sarà adibita agli uffici di Costa Bioenergie e Socogas nel periodo in cui entrerà in funzione il deposito di GPL. I lavori sono molto cegliari e non hanno mancato di suscitare l'attenzione dei passanti per via maestri del lavoro, anche se l'immobile risulta nitidamente visibile pure dal ponte Cavanis e da altri luoghi. Chioggia riparte dal lavoro e non intende fermarsi. Il progetto che nel settembre 2017 aveva assicurato a 15 soggetti scelti dai servizi sociali sei mesi di attività nell'ambito dei lavori socialmente utili, dai parchi alla manutenzione delle strade, e che era appunto scaduto il 31 marzo, viene valutato con esiti positivi dall'amministrazione, tanto che è stato accordato supporto alla società partecipata SST per aderire al nuovo progetto di pubblica utilità finanziato con fondi regionali ed europei, stanziato dalla Giunta Veneta l'8 maggio scorso per combattere la povertà dei disoccupati privi di ulteriori tutele. Il programma prevede la realizzazione su base comunale di opere di cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati ed esclusi dal mercato del lavoro, secondo uno schema che vede assieme le amministrazioni locali e soggetti di privato sociale accreditati ai servizi per il lavoro. Nell'edizione 2017 per Chioggia fu coinvolta la cooperativa Ego Labor. Anche le intenzioni per l'anno in corso sono mirate a favorire l'occupabilità di altrettanti 15 individui, contrastando così l'inattività di lunga durata e sostenendo il reddito dei destinatari, pur in permanenza di uno stato di disoccupazione. La delibera di Giunta che ha approvato questo percorso di SST e del settore servizi sociali è improntata al perseguimento di una politica sempre meno assistenziale ma rivolta all'inserimento lavorativo, che accresce l'autostima delle persone e permetta loro di acquisire nuove conoscenze professionali e di relazione. Eccezionale promozione della pescheria CAM. Meravigliose capesante, pescate da somozzatore, di altissima qualità, disponibili da giovedì 28 mattina a soli 6,60 euro al chilo. Conviene affrettarsi. Ancora un blackout elettrico, il secondo in 10 giorni, si è abbattuto ieri sera su Piazza Italia in piano centro e sottomarina. In seconda serata, con un discreto numero di residenti turisti in circolazione, il bulvar che congiunge via Veneto e lungomare è rimasto al buio. Difficile non considerare il fatto che solo un mese fa l'intera zona circostante sia stata interessata dai lavori di adeguamento della rete elettrica, con nuovi punti luce e migliore efficienza energetica via LED. Con l'estate avviata e i mesi più caldi affollati dietro l'angolo, occorrerà di nuovo intervenire per sanare questa situazione di disagio che squalifica l'attrattività del litorale. Profumo di jazz domani sera a Sottomarina. In attesa dei concerti del Summer Workshop di Veneto Jazz, in programma dal 22 al 28 luglio, con Sensation Serali sul litorale, giovedì 28 giugno dalle ore 22, il Moai Garden in lungomare Adriatico sotto il Parco Hotel, ospiterà due giovani musicisti chioggiotti che da tempo si stanno facendo valere nella scena italiana e internazionale. Si tratta del chitarrista Luca Zennaro e del pianista Filippo Rinaldo, che si esibiranno assieme al contrabbasso di Michelangelo Scandroglio e alla batteria di Mattia Galeotti in un quartetto di assoluta suggestione. La band offrirà un repertorio di composizioni proprie di Luca e Filippo, oltre all'esecuzione di standard della tradizione americana. Zennaro di recente è stato protagonista anche in Lettonia al Riga Jazz Festival. Amici di Nettocazzurra, buongiorno e buon mercoledì. Ancora qualche nota instabile qua e là fino al giovedì, poverizzo, e poi scenario aperto a un nuovo anticiclone, questa volta di matrice subtropicale, quindi di matrice saliana, che porterà e farà sì che le temperature massime, specie al centro-sud delle isole maggiori, schizzino ben oltre 35-38 gradi. Una situazione naturalmente in divenire, saremo più sicuri da giovedì e venerdì in poi, ma quello che sembra profilarsi è la prima vera ondata di caldo non torrido, naturalmente non torrido, quindi un pochino umido, della stagione 2018. Quanto durerà? Secondo le carte potrebbe profilarsi almeno fino al 5-6 di luglio e sicuramente la parte più interessata, come vi ho detto prima, saranno le isole maggiori e il centro-sud Italia. Il nord Italia rimane ancora fuori un pochino dei giochi, un po' esposto ancora alle correnti un pochino più umide e atlantiche e quindi noi avremo sicuramente una bassione di temperature alla volta del 3-4 di luglio. Quindi la prima vera ondata di caldo si troverà sul nasce, le traglie, il weekend della vostra settimana, dando luogo quindi alle prime temperature bollenti. Perciò il concenso a Todian, similari a ieri, dato che l'alta pressione è in rinforzo, di matrice ancora azoliana, quindi abbastanza secca, con umidità molto bassa e temperature che oscilleranno tra i 25 e i 27 gradi, ma con le minime ancora stazionari tra i 19 e i 20 gradi. Quindi tutto sommato ancora un caldo secco ed accettabile. Buona spiaggia a tutti, ci sentiamo domani. Ciao!